L'etapa di oggi, Primo Levi scrittore. Come abbiamo detto, Primo Levi è stato un chimico, un partigiano, ma soprattutto un grande scrittore ed intellettuale. La sua opera più celebre è sicuramente Se questo è un uomo, il suo romanzo d'esordio è testimonianza della prigionia nell'Ager nazista. Se questo è un uomo è un'opera memorialistica in cui narra l'esperienza della prigionia e soprattutto cerca di trovare un perché a quanto era successo, ma non è l'unica grande opera di questo scrittore. Ricordo anche tra gli altri lavori il romanzo la tregua, l'opera che valse a Primo Levi la vittoria nella prima edizione del premio Campiello nel 1963. Il sistema periodico, perché un altro filo conduttore ricorrente sono le conoscenze chimiche e scientifiche, un'opera del 1975. Nel 1978 vince il premio streghe con il romanzo La chiave a stella e nell'86 pubblica il saggio, un saggio molto noto che il professore Fronzi ha citato più volte, i sommersi e i salvati, in cui Primo Levi analizza la logica dietro al comportamento dei singoli detenuti nei Lager. Do la parola al professore Fronzi Giuseppe De Donato. Grazie. Grazie Presidente, grazie ovviamente ancora una volta ai tregi e come vi avevo detto nella scorsa lezione alle quattro purtroppo io devo uscire molti docenti, perché cominciamo il collegio dei docenti. Voi studenti rimarrete fino alla fine della lezione e coordinerà il professore Giuseppe De Donato. Grazie. Grazie Preside, grazie ovviamente ancora una volta ai colleghi e soprattutto ai ragazzi che ci stanno seguendo con costanza e spero anche con interesse. Ovviamente come abbiamo già detto le scorse volte sarebbe bello se intervenissero anche loro al termine delle elezioni anche per avere un po' di, come dire, un minimo di interazione fra noi. Ma confidiamo perché abbiamo ancora la lezione di oggi e quella di martedì. Dunque come abbiamo fatto le scorse volte i primi minuti dovrò impiegarli per chiudere il discorso della puntata precedente. Mi rendo conto ragazzi che sia stato un po' più complesso, un po' più articolato il discorso per come è emerso la scorsa volta, ma sulla lunghezza dei cinque incontri l'obiettivo era esattamente questo, di partire in piano, andare un po' in salita con il secondo e il terzo incontro e poi ridiscendere con il quarto e con il quinto, che come vedrete saranno più storico-narrativi. Ma prima di passare al quarto incontro, quello dedicato al primore di scrittore, chiudiamo rapidamente il discorso che abbiamo aperto la scorsa volta. Come ricorderete, la preside e la dirigente l'ha già ricordato, il tema era il concetto di Dio dopo Auschwitz, che è un interrogativo, quello della presenza del silenzio di Dio nel contesto della Shoah, che non si sono posti soltanto gli ebrei ma anche i cristiani. In generale si è posto prepotentemente questo interrogativo, questi interrogativi si sono posti dopo Auschwitz. E nel percorso che stavamo tracciando ricorderete che eravamo arrivati sostanzialmente a questo punto, e cioè alla questione del rapporto tra corporeità, materia e spirito sostanzialmente. E abbiamo detto anche che, come ha sottolineato il teologo Sergio Quinzio, che ha già citato più volte, alle origini cristiane non c'era questa contrapposizione tra corpo e spirito, tra anima e materia, ma, come potete leggere, alla carne era promessa la vita senza fine. E l'idea di una realizzazione immediata delle attese umane nell'esistenza mondana, quindi in questa vita e non nell'aldilà, trova un punto di giunzione, un punto di accordo nel Nuovo Testamento, in particolare in un passo della lettera ai Romani di San Paolo, anche essa già citata la scorsa volta. Un passo che è stato ritenuto oscuro, probabilmente, dice Quinzio, perché era più facile in questo modo sfuggire alla radicalità di quello che veniva sostenuto, alla radicalità di quello che emerge dalle parole di San Paolo. E che cosa scrive San Paolo? San Paolo scrive «Sappiamo che fino ad ora l'intera creazione geme all'unisono, nelle doglie del parto, e non essa solo, ma anche noi stessi che possediamo la primizia dello spirito. Anche noi gemiamo in noi stessi nell'attesa dell'adozione, la redenzione dei nostri corpi. Noi speriamo che ciò che non vediamo e attendiamo pazientemente, così anche lo spirito ci soccorre per contrastare la nostra debolezza. Noi ignoriamo cosa invocare per il nostro bene, ma intercede sopra di noi, con gemiti inesprimibili, lo spirito stesso». Qual è il punto? Che in questo passo, che appunto è stato considerato spesso oscuro e in questo modo si è in qualche modo rimossa la radicalità di ciò che è scritto, secondo Quinzio emerge da queste parole un'idea, un'immagine di creazione che è sottomessa alla caducità, di una creazione che attende di essere liberata dalla corruzione, di una creazione che geme, di una creazione che soffre, come gemiamo e soffriamo noi. Ma una creazione di questo tipo, che ha questi attributi, che ha questi caratteri, non può che essere opera di un Dio anche egli sofferente. Tra poco rimetteremo un po' in fila i passaggi che abbiamo attraversato la scorsa volta e che in qualche modo mettono in discussione, ovviamente da un punto di vista teorico e teologico, perché questi sono discorsi fatti da teologi, non dall'uomo comune, diciamo così, dall'uomo della strada. Ecco, dicevo, rimetteremo insieme i pezzi per vedere che tipo di attributi vengono attribuiti a Dio, che sono molto diversi rispetto a quelli tradizionali, l'onnipotenza, l'onnipresenza, l'onniscienza. Ecco, dicevamo, una creazione di questo tipo, che geme, che soffre e che attende di essere liberata dalla corruzione, non può che essere opera di un Dio, anche egli sofferente e quindi non onnipotente. Dal momento che, queste sono parole invece di Peter Berger, che è un sociologo e teologo protestante, l'idea della sofferenza di Dio implica una temporanea limitazione della sua onnipotenza. Sotto questo punto di vista, da questa prospettiva, la creazione appare difettosa. E questo difetto nella creazione non è soltanto limitato alla storia dell'uomo, ma anche al mondo non umano. E quindi a questo tipo di creazione difettosa, o meglio a questo difetto, viene assegnato, viene attribuito una dimensione metatemporale, sovrastorica, forse cosmica. Però, ulteriore conseguenza di queste premesse, parlare di difetto non implica soltanto la presenza di un Dio sofferente, ma anche il concetto, implica anche il concetto di fallimento, di sconfitta. È per questo che uno dei libretti, dei libri, delle opere di Quinzio si intitola proprio La sconfitta di Dio. Fallimento, sconfitta, dato che un Dio infallibile e onnipotente evidentemente non può produrre una creazione imperfetta. E al contrario, se la creazione è imperfetta, evidentemente il Dio, Dio che l'ha creata, che ha operato questa creazione, non è onnipotente. Secondo la cabala, segnatamente per questo cabalista del Cinquecento, Isaac Luria, la creazione è frutto di un comportamento di Dio che ha a che fare con quello che abbiamo detto adesso, cioè con una sospensione della sua onnipotenza. Precisamente con la contrazione, questo è il simsum, il termine ebraico, ha a che fare con una contrazione di Dio, con una autolimitazione di Dio che è necessaria per poter dare avvio alla creazione di una realtà che sia diversa dalla realtà divina, dalla realtà di Dio. Quindi Dio si ritrae, Dio si contrae, si autolimita per creare uno spazio che non sia occupato da sé, e quindi da materia, dalla realtà divina, uno spazio che poi sarà lo spazio, il posto riservato al mondo. E a questa dottrina si riconnette il filosofo che abbiamo citato in apertura, cioè Hans Jonas, l'autore appunto del saggio del concetto di Dio dopo Auschwitz. Nonostante lui vada comunque oltre questa concezione che abbiamo appena citato, perché la sua visione della creazione, la sua visione di creazione, la contrazione è totale. Questo significa che l'intero infinito, per Jonas, l'intero infinito, si aliena nel finito, grazie proprio al proprio potere. e ritorniamo a Jonas appunto per chiudere, diciamo così in un certo senso, il percorso, perché Jonas è uno dei riferimenti imprescindibili in questo dibattito sulla imperfezione, sulla sofferenza o sull'assenza di Dio. L'esperienza della Shoah ha appunto posto la domanda drammatica, tragica, Dio come ha potuto permetterlo? E la questione per usare le parole di Berger è una questione scottante, questa dell'inerzia di Dio di fronte all'olocausto. In realtà nell'edizione italiana del libro di Berger c'è scritto olocausto, ma in realtà il termine non è corretto, mi pare che ce lo siamo già detti, Shoah è il termine più impreciso. Dicevamo, coinvolta in maniera più profonda, e questo l'abbiamo già detto, lo stiamo ricordando, uomini intellettuali ebrei. E Auschwitz non è un caso nella storia come altri, non è un semplice fatto bellico come altri, ma è un evento della storia del mondo. È un evento che ha creato e che ha prodotto una frattura nel fiume della storia, che ha creato una frattura nel corso della storia, tanto da poter dire appunto che c'è un prima e un dopo Auschwitz. E oltre alla domanda sul dovere a Dio, sul come ha potuto Dio permettere Auschwitz, c'è chi si è posto anche la domanda sul senso della vita, della poesia, della filosofia, della fede dopo Auschwitz. Il riferimento specifico è Adorno, nel quale in una delle sue tante fulminanti frasi, che però vanno sempre approfonditamente analizzate, a un certo punto scrive che non è più possibile fare poesia dopo Auschwitz. E comunque è necessario ripensare Dio, ripensarlo radicalmente. E non soltanto, scrive Jonas, e questo ce lo siamo detto all'inizio, perché fu proprio l'antico popolo dell'alleanza e non un altro ad affrontare il destino dell'annientamento totale con il falso pretesto della razza. Ma anche perché, a differenza del cristiano che abbiamo detto, proietta la salvezza nell'aldilà, per l'ebreo è qui, è nella storia, è al di qua il luogo della creazione della giustizia e della salvezza di Dio. E quindi Dio è il signore della storia, e quindi Auschwitz essendo un evento della storia, è qualcosa che va ascritto in qualche modo al comportamento o quantomeno messo in relazione con la presenza o assenza di Dio. E quindi, inevitabilmente, torniamo alla questione del ripensamento. E di fronte a questo problema, a un certo punto Jonas dice ok, se così stanno le cose, bisogna ripensare Dio, ma anche rimettere in discussione o rimettere in relazione i tre attributi principali di Dio, l'onnipotenza, la bontà e la comprensibilità. Cioè, per comprensibilità dobbiamo intendere la possibilità che Dio possa essere compreso dall'uomo. E Jonas sostiene che questi tre attributi, dopo Auschwitz, non possono essere considerati tre attributi che coesistono. Bisogna ripensarli. Non possono coesistere e sono il rapporto tale che ogni relazione tra due di loro esclude il terzo. E quindi, o è onnipotente e buono, ma non è comprensibile, o è onnipotente e comprensibile, ma non è buono, oppure buono e comprensibile, ma non è onnipotente. Il male c'è solo in quanto Dio non è onnipotente, conclude Jonas. Solo a questa condizione possiamo affermare che Dio è comprensibile, buono e che nonostante ciò nel mondo ci sia il male. E a partire da queste considerazioni Jonas avanza anche altre due idee, quella di un Dio sofferente e quella di un Dio diveniente. Nel primo caso, come abbiamo già detto, il riferimento è alla dottrina dell'autolimitazione, della contrazione di Dio. Mentre nel secondo caso viene suggerita l'idea di un Dio che non ha ancora raggiunto la pienezza del suo essere. Quindi di un Dio che è ancora a sua volta, Dio che a sua volta è in un processo di indivenire, di un processo al termine del quale Dio ancora non sarebbe giunto. Di un Dio quindi indivenire non immutabile e che diviene nel tempo, queste invece sono parole di Quinzio, anziché possedere un essere già completo, sempre identico a se stesso nell'eternità. E il mancato mantenimento delle promesse a questo punto, delle promesse ovviamente ci riferiamo a quelle che l'uomo anche attraverso la preghiera mette nelle mani di Dio, la creazione vista come misteriosamente difettosa, un Dio che non è onnipotente, un Dio che è sofferente e un Dio per il quale è impossibile intervenire nella storia del mondo, un Dio che non ha il dominio assoluto su ciò che ha creato e quindi lo stesso sacrificio di Cristo, rappresenterebbero allora le tappe di una storia e questo è ancora Quinzio, di una storia continua di fallimenti ma allora se fosse così si chiede Quinzio se Dio è questo con tutte le sue sconfitte a che cosa può servirci? E a questa domanda con il sottofondo di padelle forse Quinzio risponde che il Dio delle sconfitte può servirci perché è il nostro modello, perché resta comunque l'unico modello di cui possiamo sperare di disporre e il credente al di là della sua fede cattolica protestante eccetera eccetera non può sottrarsi alla speranza che un giorno che è un momento che alla fine dei tempi la sconfitta di Dio si rovesce invece in una vittoria gloriosa non si dà salvezza se non in Dio e al contempo non c'è nessun Dio separato dalla sua oltre che dalla nostra salvezza ma si pone un altro interrogativo presente nel Vangelo secondo Luca angosciante una domanda angosciante ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra perché ovviamente in questa estenuante lunga attesa ci si chiede ma se questa salvezza non dovesse mai arrivare se la stanchezza e la delusione del credente le cui aspettative sembrano apparentemente irrimediabilmente negate dovesse avere invece il sopravvento sul sentimento di attesa sulla speranza che cosa succederebbe e per questo che nel Vangelo secondo Luca si legge questa domanda inquietante e angosciante ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra e a questa domanda non si può che dare una sola risposta afferma Quinzio egli dovrà venire sulla terra nonostante la millenaria attesa e nonostante l'eventuale assenza di fede anche qualora non dovesse trovarla o ritrovarla una volta tornato sulla terra se la fede andrà perduta non sarà soltanto per colpa loro e chiude Quinzio e con questa citazione si chiude anche la nostra terza lezione noi siamo qui perché siamo figli di questo immane insostenibile ritardo ecco questa è la dunque adesso ci addentriamo invece nella e così inizia ragazzi la difesa in primo lei di scrittore va bene questa slide poi ve lo vedrete da soli questo questo bel video vediamo soltanto l'inizio signore affare data dal mese prossimo voglia accettare le mie dimissioni e provvedere se crede a sostituirmi lascio molto lavoro non compiuto sia per ignavia sia per difficoltà obiettive dovevo dire qualcosa a qualcuno ma non so più cosa e l'ho scordato dovevo anche dare qualcosa una parola saggia un dono un bacio ho rimandato da un giorno all'altro mi scusi provvederò nel poco tempo che resta ho trascurato temo clienti di riguardo dovevo visitare città lontane isole terre deserte le dovrà depennare dal programma o affidarle alle cure e le successore dovevo piantare alberi e non l'ho fatto costruirmi una casa forse non bella ma conforme a un disegno avevo in anima un libro meraviglioso caro signore che avrebbe rivelato molti segreti alleviato dolori e paure sciolto dubbi donato a molta gente e troverà la traccia nel mio caspetto in fondo tra le pratiche in evase non ho avuto tempo per svolgerla è peccato sarebbe stata un'opera fondamentale ecco quello che avete ascoltato quella che avete ascoltato è la voce di Primo Levi che legge appunto per favore spogliete i microfoni i microfoni per favore professore dedonato ha il microfono accesso dicevo quella che avete ascoltato è la voce di Primo Levi che legge una sua poesia le pratiche in evase pubblicata nella raccolta d'ora incerta dell'84 e con questa con questa lettura si apriva una trasmissione radiofonica del 1985 o meglio con questa con questa lettura si apre il documentario che fa riferimento anche a questa poesia poesia che appunto si intitola Le pratiche in evase che sono proprio alla fine a cui si fa riferimento alla fine della poesia e questo documentario si intitola Primo ufficio dell'uomo i mestieri di Primo Levi e dai materiali di approfondimento relativi a questo documentario ho tratto i contenuti di questa prima parte della lezione a partire appunto dalla sua voce e da questa poesia e Primo ufficio dell'uomo è un'espressione che utilizza Levi questo è un uomo proprio all'inizio quando scrive a quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in Lager e secondo la quale Primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei e chi sbaglia paga e questa poesia come avete visto ha la forma della lettera di dimissioni che un dipendente scrive al proprio al proprio datore di lavoro al proprio principale nella quale elenca tutto ciò che non ha concluso tutto ciò che ha lasciato a metà che non riuscirà a portare a termine ma che probabilmente rappresentava qualcosa di fondamentale e il lettore o l'ascoltatore penetrando il linguaggio il tono di questa poesia delle pratiche in evase capisce immediatamente che c'è un profilo un piano una dimensione allegorica metaforica alla quale è necessario fare riferimento le mansioni lavorative ciò che ha lasciato nel cassetto ciò che non porterà a termine non sono ovviamente effettivamente delle mansioni lavorative ma alludono al bilancio dell'esistenza di ciascuno le pratiche in evase sono i gesti mancati i gesti non compiuti le parole non dette le scelte non fatte che poi con il tempo per il fatto di essere relativa a qualcosa di fondamentale con il tempo rischiano di trasformarsi in rimpianti e e perché la parola ufficio utilizza questa parola levi non a caso evidentemente è una parola che deriva dal latino ufficium e significa lavoro significa anche però dovere e quindi il primo compito dell'uomo il primo ufficio dell'uomo come scrive in sé questo uomo è quello di perseguire gli obiettivi che si è prefissato facendolo come scrive appunto levi con i mezzi idonei e perché partiamo da questo perché in effetti il primo levi è stato sempre fedele a questo principio è stato sempre fedele a questo principio sia quando faceva il chimico sia quando faceva lo scrittore sia quando faceva il padre di famiglia e quindi in generale nella sua esistenza e ricominciamo un attimo riprendiamo meglio da dove avevamo lasciato levi al ritorno dal periodo di isolamento di prigionia ad Ammonovitz poco dopo rientro in Italia abbiamo detto che è avvenuto nell'ottobre del 45 primo levi trova lavoro prima in una fabbrica di vernici e poi definitivamente alla Siva ricorderete a Settimo Torinese dove ci rimarrà fino alla pensione e in questa sua carriera quella di chimico e quello di scrittore sono due mestieri che continuamente si sono incrociati e si sono affiancati non era come vedremo tra poco la sua pratica di chimico non è rimasta estranea al suo stile di scrittura così come la sua scrittura non è rimasta impermeabile alle competenze alle conoscenze e alle pratiche che avevano a che fare con il mestiere di chimico e la scrittura non ha mai perché appunto lei è una persona estremamente rigorosa la scrittura non ha mai tolto tempo alla professione di chimico non è che mentre era in ufficio alla Siva prima lei iniziava a scrivere un racconto un romanzo una poesia o a tradurre qualcosa quando era in ufficio svolgeva le sue funzioni di chimico di responsabile di dirigente a seconda del periodo della sua vita e quando invece era a casa la sera dopo il lavoro durante le ferie invece si dedicava alla scrittura e lei considera il mestiere di chimico come abbiamo già detto come il suo primo mestiere prima di quello di scrittore anche perché con la chimica lui inizia ad avere a che fare come ricorderete alla fine degli anni trenta quindi dieci anni prima della scrittura di Se questo è un uomo quando inizia a studiare chimica all'università di Torino laureandosi poi con la tesi che abbiamo già detto sull'inversione di Falden dopo la guerra la deportazione abbiamo detto che lavora alla Siva e resterà lì anche una volta diventato famoso a livello nazionale e internazionale questo significa che per la serietà che contraddistingueva la sua attività di chimico lui non ha neanche mai smesso di tenersi aggiornato sulle nuove teorie scientifiche che venivano pubblicate in particolare sulla Scientific American sulla rivista Scientific American e non dirà dei risultati di queste ricerche che vengono poi proposti da Levi nei racconti che hanno un taglio più propriamente scientifico Levi che tipo di uomo era? Era un uomo concreto innamorato del rigore che emergeva dallo studio della natura e dai suoi elementi più profondi e tutta la sua vita lo dicevamo anche in relazione alle sue escursioni al suo rapporto profondo ma epidermico oltre che spirituale con il mondo della natura e con la montagna lui guardava la natura come a un mondo o meglio a un universo che aspettava di essere studiato e analizzato fin nei suoi elementi più profondi e analizzare il movimento o la stasi a partire dalle sostanze chimiche per lui significava scavare appunto nelle profondità del mondo e quindi anche nelle profondità della vita quindi questo approccio l'atteggiamento che lui aveva da chimico lo ha mantenuto poi questo atteggiamento di scavare nelle profondità di andare alla ricerca dei segreti nelle profondità del mondo poi lui l'ha come dire utilizzato anche nell'esperienza di scrittore e quindi questa attitudine che Levi scava nel suo passato quando ricorda quello che gli è accaduto durante il periodo della deportazione ma anche il suo presente nel corso della sua vita e anche nel suo mondo immaginativo e le due attività di scrittore e di chimico Levi non le ha mai distinte se non come dicevamo per il tempo che a esse dedicava quando scriveva scriveva quando era alla Siva era alla Siva quindi le teneva distinte da un punto di vista del tempo e dell'impegno fisico e mentale ma poi nella sua testa nella sua mente e nella sua opera di scrittore le due attività inevitabilmente finivano con il contagiarsi e lui teneva a evidenziare che la formazione scientifica gli avesse dato dei punti di vista degli strumenti originali e utili nella sua opera di scrittore ecco quindi letteratura e chimica si intrecciano in vari modi ed è una relazione come dicevamo bidirezionale l'una la letteratura contaminava contagiava la chimica e viceversa e quali sono i punti diciamo di maggiore convergenza di maggiore congiunzione tra la letteratura e la chimica per lei intanto lo scrittore che è anche chimico ha a disposizione un vocabolario delle figure retoriche che gli derivano dalla scienza che però possono utilmente essere utilizzati anche in campo letterario parole come essenza o verbi come distillare confronti che hanno a che fare con le sostanze nero come oppure amaro come altri aggettivi come vischioso tenace greve fluido inerte sono tutti termini tutte parole che racchiudono un significato originario che per il chimico hanno una certa valenza semantica ma che poi possono tornare utili proprio in virtù di questa valenza semantica originaria anche per lo scrittore ma non è soltanto questo un altro elemento è lo stile della scrittura il linguaggio scientifico è generalmente sintetico lineare ordinato chiaro conciso esatto meticoloso ma ripeto ordinato esatto e sintetico che è proprio che sono proprio i caratteri della scrittura di Levi che tra poco esaggeremo leggendo alcune pagine di alcuni dei suoi dei suoi libri un altro un ulteriore elemento che lega le due dimensioni è il carattere pubblico della scienza e della letteratura perché secondo Levi la scrittura così come la scienza è un mestiere che va messo al servizio degli altri rappresenta un servizio pubblico un servizio che viene svolto per gli altri non solo per se stessi e lo diceva appunto probabilmente anche in virtù della sua esperienza di scrittore testimone perché è evidente che probabilmente anche da un punto di vista psicologico psicoanalitico non lo so la scrittura che ha rappresentato per lui un'urgenza dopo il rientro alla vita normale che ovviamente rientro alla vita normale non è potuto mai essere ecco ma l'urgenza di scrivere non era legata soltanto alla necessità di testimoniare quindi di raccontare agli altri ma probabilmente alla necessità interiore di dare forma di verbalizzare un'esperienza assolutamente tragica e quindi diciamo così servizio privato se vogliamo dire così servizio pubblico si si intrecciano in quella prima opera di testimonianza ma questo si colloca all'interno di una idea generale che è appunto quella per la quale sia la scienza che la scrittura hanno un rilievo e un carattere pubblico bisogna comunicare e farsi comprendere e in effetti la scrittura di Levi è immediatamente comprensibile quarto elemento che tiene come dire che crea una relazione particolare tra la chimica e la scrittura è il fatto che la chimica ha a che fare con i cambiamenti della materia con la trasmutazione della materia con il passaggio da uno stato a un altro con la trasformazione delle sostanze e questa attitudine che ha il chimico con i cambiamenti della materia è in qualche modo la stessa che ha lo scrittore con le parole con la materia che maneggia che plasma e si legge nella chiave a stella che è uno dei dei più importanti libri che ha scritto Levi che è stato già ricordato dalla dirigente pubblicato nel 78 scrive Levi del resto non è detto che l'aver trascorso più di 30 anni nel mestiere di cucire insieme di cucire insieme lunghe molecole presumibilmente utili al prossimo e nel mestiere parallelo di convincere il prossimo che le mie molecole gli erano effettivamente utili non insegni nulla sul modo di cucire insieme parole e idee e sulle proprietà generali e speciali dei tuoi colleghi uomini quindi l'attenzione per la scienza per per l'innovazione tecnologica per le diverse facce e forme del progresso sono presenti nella esperienza lavorativa di Levi così come sono presenti nelle opere di Levi e soprattutto ovviamente nei racconti o negli atti unici di argomento fantascientifico presenti nei due volumi Storie Naturali del 66 di cui parleremo la prossima volta in relazione allo pseudonimo ve l'ho già detto che utilizzerà per Storie Naturali e l'altro volume è Vizio di Forma nel primo di questi due in Storie Naturali c'è un atto unico che si intitola Il Versificatore nel quale Levi mi gioco un po' ma con occhio raffinato sull'ambivalenza della scienza e della tecnologia che può essere qualcosa di utile ma anche qualcosa di perfettamente inutile e in questo versificatore Levi descrive il funzionamento di una ipotetica immaginaria macchina rivoluzionaria che è capace di comporre automaticamente poesie viene immediatamente acquistato questo questo marchi ingegno da un poeta che era stato colpito dal classico blocco dello scrittore non riusciva più a versificare non riusciva più a trovare versi a scrivere poesie ma vi consiglio di leggerlo non voglio spoilerare niente il rapporto che avrà questo poeta con la macchina darà risultati comici e imprevedibili e qual era l'obiettivo di Levi oltre che quello di divertirsi e di divertire questo lo dico anche per far venire fuori un lato ironico anche che è spesso presente anche nelle pagine più drammatiche è spesso presente nella produzione di Levi e questo come a dire che Levi non era non dovete immaginarlo come un uomo ripiegato su se stesso tragicamente vittima della sua esperienza che non si è mai più riuscito a risollevare o un uomo che non fosse capace di sorridere e di ridere tutt'altro dicevo con questo versificatore Levi vuole dimostrare appunto che la tecnologia arrivata a un certo punto può diventare fallimentare o addirittura dannosa quindi tutt'altro che è utile per l'uomo secondo molti critici il punto di resa stilistica della scrittura di Levi o almeno uno dei punti massimi è il racconto carbonio che è stato anche citato da Massimo Canfora la scorsa volta che è l'ultimo racconto con il quale si chiude e questo lo leggeremo il sistema periodico che viene pubblicato nel 1975 ecco in carbonio e lo vedremo perché appunto lo leggeremo se tutto va bene riusciamo a leggere tutto sono poche pagine e le due dimensioni e le due formazioni i due fiumi quello scientifico e quello umanistico riescono a fondersi magnificamente in una narrazione che ha come come protagonista l'atomo di carbonio è una storia è la storia di un atomo di carbonio e cioè di una particella microscopica di materia abbiamo detto come Levi rientrato in Italia si fosse impegnato nella scrittura subito nella scrittura di Seguesso un uomo abbiamo anche già detto come la proposta a Einaudi la proposta fatta da Levi a Einaudi verrà rigettata e verrà poi pubblicata da un altro editore torinese inizia subito a scrivere Seguesso un uomo a ottobre era rientrato a Torino inizia subito a scriverlo e lo terminerà all'inizio del 47 quindi impiegherà poco più di un anno per scrivere Seguesso un uomo e gli elementi che caratterizzano come dicevamo come abbiamo già detto questa spinta di Levi a scrivere è appunto l'urgenza di adempiere a un compito di adempiere a un dovere e quindi di saldare anche un debito nei confronti di coloro che sono rimasti sommersi e non quindi non sono finiti nella categoria alla quale apparteneva lui cioè quella dei salvati e c'è anche come dicevamo un aspetto liberatorio per quello che dicevamo prima la scrittura ha rappresentato per lui un motivo di liberazione di e da un fardello enorme che portava dentro e già se questo è un uomo anche se lui ancora non lo sapeva perché abbiamo già detto che che Levi una volta concluso se questo è un uomo considerava chiusa la sua esperienza di scrittore quindi non sapeva che invece poi questo carattere che stiamo per dire sarebbe rimasto anche nelle sue opere successive emerge da se questo è un uomo un'idea una pratica della scrittura come opera collettiva come una polifonia come qualcosa che risulta dal mix dalla combinazione di voci e caratteri diversi abbiamo detto che che Levi propone inizialmente il libro a Inaudi Levi è di Torino e Inaudi la casa editrice torinese propone e Inaudi dice no lo propone a un'altra importante casa editrice edizione di comunità che allora era di proprietà di Adriano Olivetti del grande imprenditore illuminato lo pubblicherà l'editrice la casa editrice De Silva sempre di Torino e grazie alla intermediazione all'intervento all'interessamento di Franco Antonicelli che era un partigiano e critico letterario sempre in quel periodo scrive anche il primo racconto che si intitola I Mnemagoghi che viene pubblicato sull'Italia socialista nel dicembre del 48 ma che lui aveva già scritto nel 46 quindi lo stesso anno in cui scriveva Se questo è un uomo e che lo stesso anno nel cui ha scritto anche un'altra cosa che diremo tra poco e questo racconto finirà nella raccolta delle storie naturali che cosa significa I Mnemagoghi letteralmente significa suscitatori di memoria e in effetti nel racconto emerge quale immagino quale processo quello in base al quale i profumi sono capaci di riattivare i ricordi che è un po' come succede nella ricerca del tempo perduto di Proust nella quale per il narratore l'assaggiare la medelena innesca un processo di recupero di ricordi e quindi diventa questo assaggiare questo gustare diventa un elemento fecondo ma anche un elemento strutturante ai fini della narrazione ma il primo testo in assoluto che viene pubblicato con la firma di Primo Levi non è né se questo è un uomo né I Mnemagoghi ma è il rapporto sull'organizzazione igienico-sanitaria per ebrei di Monovic che viene pubblicato alla fine del 46 quindi la sua prima opera stampa diciamo così il suo primo testo pubblicato con la sua firma è di carattere scientifico ed è appunto questo rapporto l'abbiamo già detto se questo un uomo non è un libro di sola e semplice testimonianza sicuramente Levi si interroga su come sia potuto succedere su che cosa abbia potuto originare quella quella immane tragedia e analizza e studia il comportamento umano ma non lo farà soltanto in sé questo un uomo e procederà con questa analisi davvero come se fosse in un laboratorio ce ne accorgeremo tra poco quando leggeremo alcune pagine di se questo un uomo cos'altro possiamo dire come introduzione diciamo a questo libro la forma espositiva come abbiamo detto la scrittura e lo stile è quello dell'uomo di scienza quindi esatto ordinato essenziale e quindi non è una forma espositiva dal carattere dal tono assertivo dal tono dimostrativo confermativo o dogmatico ma è una descrizione del reale che a volte sembra addirittura neutra ma in realtà non lo è affatto e è una modalità di descrizione del reale che è sempre perfettibile e che via via si presenta emerge si rivela agli occhi dello scrittore così come anche a quelli del lettore una delle figure retoriche più frequenti e più utilizzate da Levi è poi l'ossimoro e sarà in effetti una figura retorica che tornerà molto spesso nella produzione di Levi ma anche la ripetizione la ripetizione di temi di episodi che a volte vengono richiamati tra di loro in uno sviluppo che è allo stesso tempo orizzontale ma in certi casi circolare nelle storie un'altra caratteristica è il tempo verbale utilizzato che è il tempo presente ovviamente il tempo presente consentiva a Levi di raffigurare al meglio la dimensione nella quale vivevano i prigionieri che è una scusate che è una dimensione un po' come quella ovviamente di tutt'altro in tutt'altra condizione ma insomma è un po' come quella del tempo sospeso che viene spesso richiamata in questo è stata spesso richiamata in questi due mesi e mezzo di clausura il tempo sospeso quando si è in una dimensione in una condizione nella quale il tempo sembra non passare ci accorgiamo che sta passando ma non riusciamo a capire quanto ne sia passato e quindi una dimensione in qualche modo quasi atemporale nella prima lezione abbiamo detto che il libro è stato scritto nel 46 è stato proposto a Inaudi ok questo l'abbiamo già detto e abbiamo anche detto nella prima lezione come a un certo punto Levi ripropone a Inaudi il libro e questa volta Inaudi accetta di pubblicarlo uscirà nel 58 con diversi ampliamenti con una revisione grafica completa ma soprattutto con tre differenze principali scusate viene introdotto il capitolo iniziazione che nell'edizione di Silva non c'era viene inserito un breve preambolo che racconta le vicende precedenti avete scritto qualcosa in chat ah ok 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 va bene Leo sì sì lo sapevo grazie e ovviamente saluto tutti i colleghi che sono stati qui e che dovranno andare e che dovranno andare in collegio docenti e dicevo quali sono le differenze più importanti sono tre l'introduzione del capitolo iniziazione l'inserimento di un preambolo che ricostruisce che racconta le vicende precedenti all'arrivo nel campo di Fossoli e che vi ho letto anche nella prima lezione e l'aggiunta di allusioni dantesche e in più nell'edizione del 76 e da allora verrà sempre pubblicata in tutte le ristampe e le riedizioni di Se questo è un uomo l'aggiunta anche di una appendice di un appendice anche abbastanza lunga e scrive Levi ho scritto quest'appendice nel 76 per l'edizione scolastica di Se questo un uomo per rispondere alle domande che costantemente mi vengono rivolte dai lettori studenti tuttavia poiché esse coincidono ampiamente con le domande che ricevo dai lettori adulti mi è sembrato opportuno riportare integralmente le mie risposte anche su questa edizione quindi dal 76 in tutte le edizioni di Se questo un uomo ci sarà quest'appendice che è strutturata esattamente nella forma della domanda con risposta vi faccio un esempio la prima domanda è nel suo libro non si trovano espressioni di odio nei confronti dei tedeschi nel rancore nel desiderio di vendetta li ha perdonati e poi segue la risposta di Levi e quindi ci sono tutta una serie di domande quindi se vi capiterà come io spero di leggere questo libro troverete l'appendice con le otto domande le motivazioni abbiamo detto che non si tratta di un soltanto di un testo di testimonianza e nella prefazione già Levi focalizza il suo obiettivo qual è il suo obiettivo? quello di fornire un documento per uno studio pacato di alcuni aspetti dell'animo umano e abbiamo detto anche prima che l'obiettivo di Levi è quello di studiare il mondo la vita gli uomini come fosse in un laboratorio e cercare di comprenderne le dinamiche più profonde quindi in generale sono quattro gli scopi che sembrano emergere dalla lettura e dalla scrittura di sé questo nuovo documentare sicuramente un'esperienza un'esperienza estrema mostrare quali possono essere le conseguenze della xenofobia dell'antisemitismo dell'antiebraismo e riflettere e meditare sul comportamento umano e sulle forme che esso assume in situazioni estreme e raccontare come atto liberatorio per liberarsi di un'ossessione per liberarsi da un'ossessione abbiamo anche detto che in epigrafe Levi ha collocato una poesia che è Shema l'abbiamo anche già letta e al di là di questo quindi possiamo andare un po' più avanti e facendoci aiutare da Cesare Segui che firma la post-fazione di Se questo un uomo vediamo un po' qual è la struttura di questo di questo lavoro prima di andare a leggere alcuni passi poesia che è Shema prefazione preambolo che non ha un titolo 17 capitoli non numerati ma che hanno un titolo vi faccio qualche esempio dal primo il viaggio sul fondo iniziazione cabe le nostre notti e così via e un appendice aggiunta come detto nel 76 qui rapidamente vi dico di che cosa si parla nei 17 capitoli nel primo il viaggio vengono narrate le premesse della cattura di Levi ma anche la prigionia a Fossoli e la notte la prima notte della deportazione ma anche il viaggio e l'arrivo ad Auschwitz il secondo sul fondo qui si parla del primo delle prime impressioni che ha Levi una volta arrivato lì nel lager l'inserimento tra i prigionieri il tatuaggio del numero di matricola con il quale viene sancita di fatto viene sancito il passaggio dall'essere umano con un proprio nome primo Levi all'essere semplicemente un numero la descrizione topografica del campo io ragazzi andrei avanti su questo perché poi appunto ve li metterò a disposizione quindi non perdiamo minuti su questo direi di andare direttamente alla lettura di qualche passo vi ho fatto la fotografia delle pagine che leggerò non le leggerò integralmente però i passi che leggerò li troverete nelle pagine qui messe nelle slide in modo che possiate avere anche voi un rapporto diretto visivo e non solo uditivo con con la scrittura di di Levi dunque iniziamo proprio l'inizio le prime parole con le quali si apre non la prefazione ma il primo capitolo il viaggio ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943 quindi anche questo inizio questo incipit è davvero fulminante perché parte direttamente raccontando la sua condizione che era già tragica ero stato catturato dalla milizia fascista avevo 24 anni poco senno nessuna esperienza e una decisa propensione favorita dal regime di segregazione a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto a vivere in un mio mondo scarsamente reale popolato da civili fantasmi cartesiani da sincere amicizie maschili e da amicizie femminili e sangui coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione anche questo vi dà l'idea e la misura del carattere di Levi il quale si attribuisce un certo senso di ribellione ma moderato e astratto non mi era stato facile scegliere la via della montagna e contribuire a mettermi in piedi quanto nell'opinione mia e di altri amici di me poco più esperti avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a giustizia e libertà mancavano i contatti le armi i quattrini e l'esperienza per procurarseli mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata in buona e in mala fede che arrivava lassù dalla pianura in cerca di un'organizzazione inesistente di quadri di armi o anche solo di protezione di un nascondiglio di un fuoco di un paio di scarpe poi passiamo qui a pagina 7 soltanto una minoranza di ingenue e di illusi si ostinò nella speranza noi avevamo parlato a lungo con i profughi polacchi e croati e sapevamo che cosa voleva dire partire nei riguardi dei condannati a morte la tradizione prescrive un austero cerimoniale atto a mettere in evidenza come ogni passione e ogni collera siano ormai spente e come l'atto di giustizia non rappresenti che un triste dovere verso la società tale da poter accompagnarsi a pietà verso la vittima da parte dello stesso giustiziere si evita perciò al condannato ogni cura estranea gli si concede la solitudine e ove lo desideri ogni conforto spirituale si procura insomma che egli non senta intorno a sé l'odio o l'arbitrio ma la necessità e la giustizia insieme con la punizione il perdono ma a noi scrive lei questo non fu concesso perché eravamo troppi e il tempo era poco e poi finalmente di che cosa avremmo dovuto pentirci di che cosa venire perdonati il commissario italiano dispose dunque che tutti i servizi continuassero a funzionare fino all'annuncio definitivo la cucina rimase perciò in efficienza le corvee di pulizia lavorarono come di consueto e perfino i maestri e i professori della piccola scuola tenero la lezione a sera come ogni giorno ma ai bambini quella sera non fu assegnato compito e venne la notte e fu una notte tale che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi a sopravvivere tutti sentirono questo nessuno dei guardiani né italiani né tedeschi ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire tutti scoprono più o meno presso nella loro vita che la felicità perfetta non è realizzabile ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta che tale è anche un'infelicità perfetta i momenti che si oppongono alla realizzazione di entrambi i due stati limite cioè la felicità e l'infelicità sono della stessa natura conseguono dalla nostra condizione umana che è nemica di ogni infinito vi si oppone la nostra sempre insufficiente conoscenza del futuro e questo si chiama in un caso speranza e nell'altro incertezza del domani vi si oppone la sicurezza della morte che impone un limite a ogni gioia ma anche a ogni dolore vi si oppongono le inevitabili cure materiali che come inquinano ogni felicità duratura così distolgono assiduamente la nostra attenzione dalla sventura che ci sovrasta e ne rendono frammentaria e perciò sostenibile la consapevolezza sono stati proprio i disagi le percosse il freddo la sete che ci hanno tenuti a galla sul vuoto di una disperazione senza fondo durante il viaggio e dopo non già la volontà di vivere né una cosciente rassegnazione perché pochi sono gli uomini capaci di questo e noi non eravamo che un comune campione di umanità e questo rientra anche nel discorso fatto all'inizio quello secondo il quale eh un relazione al quale possiamo dire che Levi si considerava assolutamente un uomo normale un uomo come tanti altri ma che ha avuto la sfortuna di vivere ciò che ha vissuto ma anche la fortuna di sopravvivere e andiamo avanti siamo nel capitolo sul fondo alla campana siamo metto il segno siamo qui eh si riesce a leggere vero? mi dà insomma è un po' è un po' piccolino ehm vabbè purtroppo non sono riuscito a fare sì sì comunque si segue bene anche per la lettura che ne stai facendo ok ok va bene alla campana si è sentito il campo buio ridestarsi improvvisamente l'acqua è scaturita bollente dalle docce cinque minuti di beatitudine ma subito dopo irrompono quattro forse sono i barbieri che bagnati e fumanti ti cacciano con urle e spintoni nella camera attigua che è gelida qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci e ci schiaccia in mano un paio di scarpacci a suola di legno non abbiamo tempo di comprendere e già ci troviamo all'aperto sulla neve azzurra e gelida dell'alba e scalzi e nudi con tutto il corredo in mano dobbiamo correre fino a un'altra baracca a un centinaio di metri qui ci è concesso di vestirci quando abbiamo finito ciascuno è rimasto nel suo angolo e non abbiamo osato levare gli occhi l'uno sull'altro non c'è ove specchiarsi ma il nostro aspetto ci sta dinanzi riflesso in cento visi lividi in cento pupazzi miserabili e sordidi eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera si immagini ora un uomo siamo alla pagina accanto si immagini ora un uomo a cui insieme con le persone amate vengano tolti la sua casa le sue abitudini i suoi abiti tutto infine letteralmente tutto quanto possiede sarà un uomo vuoto ridotto a sofferenza e bisogno dimentico di dignità e discernimento poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso tale quindi che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana nel caso più fortunato in base ad un puro giudizio di utilità si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase giacere sul fondo vedete qui utilizza questa espressione nel caso più fortunato in base a un puro giudizio di utilità ovviamente qui sta facendo riferimento anche a se stesso siamo qui infiniti e insensati sono i riti da compiersi ogni giorno al mattino bisogna fare il letto perfettamente piano e liscio spalmarsi gli zoccoli fangosi e repellenti con l'apposito grasso da macchina raschiare via dagli abiti le macchie di fango le macchie di vernice di grasso e di ruggine sono invece ammesse alla sera bisogna sottoporsi al controllo dei pidocchi e al controllo della lavatura dei piedi al sabato farsi radere la barba e i capelli rammendarsi o farsi rammendare gli stracci alla domenica sottoporsi al controllo generale della scabbia e al controllo dei bottoni della giacca che devono essere sempre cinque di più ci sono innumerevoli circostanze normalmente irrilevanti che qui diventano problemi quando le unghie si allungano bisogna accorciarle il che non si può fare altrimenti che con i denti per le unghie dei piedi basta l'attrito delle scarte se si perde un bottone bisogna saperselo riattaccare con un filo di ferro se si va alla latrina o al lavatoio bisogna portarsi dietro tutto sempre e dovunque e mentre ci si lavano gli occhi tenere il fagotto degli abiti stretto fra le ginocchia in qualunque altro modo esso in quell'attimo verrebbe rubato se una scarpa fa male bisogna presentarsi alla sera alla cerimonia del cambio delle scarte qui si mette alla prova la peripezia dell'individuo in mezzo alla calca incredibile bisogna saper scegliere con un colpo d'occhio una non un paio una scarpa che si adatti perché fatta la scelta un secondo cambio non è concesso tale sarà la nostra vita ogni giorno secondo il ritmo pestabilito einrücken uscire e rientrare lavorare dormire mangiare ammalarsi guarire o morire e fino a quando ma gli anziani ridono a questa domanda a questa domanda si riconoscono i nuovi erogati ridono e non rispondono per loro da mesi da anni il problema del futuro remoto è impallidito ha perso ogni acutezza di fronte ai ben più urgenti e concreti problemi del futuro prossimo quanto si mangerà oggi si medicherà se ci sarà da scaricare carbone se fossimo ragionevoli dovremmo rassegnarci a questa evidenza che il nostro destino è perfettamente inconoscibile che ogni congettura è arbitraria ed esattamente priva di fondamento reale ma ragionevoli gli uomini sono assai raramente quando è in gioco il loro proprio destino essi preferiscono in ogni caso le posizioni estreme perciò a seconda del loro carattere tra di noi gli uni si sono convinti immediatamente che tutto è perduto che qui non si può vivere che la fine è certa e prossima gli altri che per quanto dura sia la vita che ci attende la salvezza è probabile e non lontana e se avremo fede e forza rivedremo le nostre case i nostri cari avete scritto qualcosa in chat? ragazzi? no anche per le le tifiche ma no sì per la presenza leggiamo ancora qualche altro passo perché ho fatto una selezione ovviamente li ho letti integralmente ma ho fatto una selezione di alcuni passaggi secondo me più significativi ecco capitolo quinto le nostre notti devono essere passate le 23 perché già è intenso l'andirivieni al secchio accanto alla guardia di notte è un tormento osceno e una vergogna indelebile ogni due ogni tre ore ci dobbiamo alzare per smaltire la grossa dose di acqua che di giorno siamo costretti ad assorbire sotto forma di zuppa per soddisfare la fame quella stessa acqua che alla sera ci gonfia le caviglie e le occhiaie impartendo a tutte le fisionomie una deforme rassomiglianza e la cui eliminazione impone ai reni un lavoro sfibrante non si tratta solo della processione al secchio è legge che l'ultimo utente del secchio medesimo vada a vuotarlo alla latrina e legge altresì che di notte non si esca dalla baracca se non in tenuta notturna camicia e mutande e consegnando il proprio numero alla guardia ne segue prevedibilmente che la guardia notturna cercherà di esonerare dal servizio i suoi amici i connazionali e i prominenti si aggiunga ancora che i vecchi del campo hanno talmente affinato i loro sensi che pur restando nelle loro cuccette sono miracolosamente in grado di distinguere soltanto in base al suono delle pareti del secchio se il livello è o no al limite pericoloso per cui riescono sempre quasi sempre a sfuggire alla svuotatura perciò i candidati al servizio del secchio sono in ogni baracca un numero assai limitato mentre i litri complessivi da eliminare sono almeno 200 e il secchio deve quindi essere vuotato una ventina di volte in conclusione è assai grave il rischio che incombe su di noi in esperti e non privilegiati ogni notte quando la necessità ci spinge al secchio improvvisamente la guardia di notte balza dal suo angolo e ci agguanta ci scarabocchia il nostro numero ci consegna un paio di sole di legno e il secchio e ci caccia fuori in mezzo alla neve tremanti e insonnoliti a noi tocca trascinarci fino alla latrina col secchio che ci urta i polpacci nudi disgustosamente caldo è pieno oltre ogni limite ragionevole e inevitabilmente con le scosse qualcosa ci trabocca sui piedi tal che per quanto questa funzione sia ripugnante è pur sempre preferibile esservi comandati noi stessi piuttosto che il nostro vicino di cucetta così si trascinano le nostre notti percepite cogliete immagino davvero la drammaticità la follia che c'è in tutto questo sembra assolutamente surreale andiamo ancora avanti facciamo che salto qualche passaggio così riusciamo anche a dire qualcosa degli altri libri andiamo ai fatti dell'estate capitolo 12 durante tutta la primavera erano arrivati trasporti dall'ungheria un prigioniero ogni due era ungherese l'ungherese era diventato dopo l'iddish la seconda lingua del campo nel mese di agosto 1944 noi entrati cinque mesi prima contavamo ormai fra gli anziani come tali noi del commando 98 non c'eravamo stupiti che le promesse fatteci e l'esame di chimica superato non avessero portato a conseguenze né stupiti né rattristati oltremisura in fondo avevamo tutti un certo timore dei cambiamenti quando si cambia si cambia in peggio diceva uno dei proverbi del campo più in generale l'esperienza ci aveva già dimostrato infinite volte la vanità di ogni previsione a che scopo travagliarsi per prevedere l'avvenire quando nessun nostro atto nessuna nostra parola lo avrebbe appotuto minimamente influenzare eravamo dei vecchi heftlinge la nostra saggezza era il non cercare di capire non rappresentarsi il futuro non tormentarsi sul come e sul quando tutto sarebbe finito non porre e non porsi domande conservavamo i ricordi della nostra vita anteriore ma velati e lontani e perciò profondamente dolci e tristi come sono per ognuno i ricordi della prima infanzia e di tutte le cose finite mentre per ognuno il momento dell'ingresso al campo stava all'origine di una diversa sequenza di ricordi vicini e duri questi continuamente confermati dall'esperienza presente come ferite ogni giorno riaperte vedete come in queste righe lei in qualche modo descriva ma come vedete in modo estremamente essenziale è lucido ordinato la condizione di chi non può e forse non deve per sopravvivere psicologicamente emotivamente non può e non deve farsi alcun programma non può immaginare quale potrebbe essere il suo futuro anche nell'immediato e vive di un presente che deve sperare che sia sempre uguale perché come si diceva con quel proverbio quando si cambia si cambia in peggio vive del presente e rivive il passato ripensandoci come si ripensa a un ricordo con la dolcezza e la tristezza di qualcosa che ci si è lasciati molto alle spalle molto indietro e chiuderei con questa lettura a salte diciamo così dice questo uomo non leggendovi la fine perché non voglio spoilerare quindi magari evitate di leggerla anche voi perché ce l'avete qui ma siamo a pagina 169 26 gennaio quindi il giorno prima della liberazione del campo di Auschwitz noi giacevamo in un mondo di morti e di larve l'ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi l'opera di bestializzazione intrapresa dai tedeschi trionfanti era stata portata a compimento dai tedeschi disfatti è uomo chi uccide è uomo chi fa o subisce ingiustizia non è uomo chi perso ogni ritegno divide il letto con un cadavere chi ha atteso che il suo vicino finisse di morire per togliergli un quarto di pane è pur senza la sua colpa più lontano dal modello dell'uomo pensante che il più rozzo pigmeo e il sadico più atroce parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta ecco perché è non umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stata una cosa agli occhi dell'uomo quindi non un uomo ma una cosa noi tre ne fumo in gran parte immuni e ce ne dobbiamo mutua gratitudine perciò la mia amicizia con Charles resisterà al tempo sta parlando di Charles e Arthur ma a migliaia di metri sopra di noi negli squarci fra le nuvole grigie si svolgevano i complicati miracoli dei duelli aerei sopra noi nudi impotenti inermi uomini del nostro tempo cercavano la reciproca morte coi più raffinati strumenti un loro gesto del dito poteva provocare la distruzione del campo intero annientare migliaia di uomini mentre la somma di tutte le nostre energie e volontà non sarebbe bastata a prolungare di un minuto la vita di uno solo di noi insomma vi sarete resi conto della intensità delle parole e del racconto di di Levi andiamo avanti andiamo avanti almeno vediamo con la tregua perché i libri di cui volevo parlare sono appunto Se è questo un uomo la tregua il sistema periodico e i sommersi e i salvati ma in maniera più sintetica però in relazione a questi altri libri ecco dopo aver scritto e pubblicato Se è questo un uomo come dicevamo Levi che vi considerava finita la sua esperienza di scrittore la considerava esaurita cosa che invece non sarà l'abbiamo già detto nel 62 inizia la stasura della tregua la tregua che è un diario un avventuroso una sorta di sequel sequel anzi del dice questo un uomo e copre il periodo successivo alla liberazione dei campi quindi dal 27 gennaio che è la data con cui si chiude se questo un uomo al 19 ottobre del 45 quindi fino a quando Levi rientra in Italia e Levi tanto per cambiare è molto preciso molto ordinato nella scrittura scrive diligentemente un capitolo al mese e conduce la sua vita che è tornata a essere normale ma con ovviamente l'inevitabile carico emotivo e psicologico legato all'esperienza del campo di concentramento è diviso tra famiglia fabbrica e scrittura e scrive Primo Levi rispetto alla tregua la tregua è stato scritto 14 anni dopo Se questo un uomo è un libro più consapevole più letterario è molto più profondamente elaborato anche come linguaggio racconta cose vere ma filtrate è stato preceduto da innumerevoli versioni verbali intendo dire ogni avventura era stata da me raccontata molte volte a persone di cultura diversa spesso a ragazzi delle scuole e aggiustata a poco a poco in modo tale da provocare le reazioni più favorevoli e lo vedremo adesso leggendo qualche passo come effettivamente il linguaggio sia più controllato più consapevole come scrive Levi più letterario dicevamo che un sequel di Se questo un uomo tanto che i primi due capitoli e una parte la parte iniziale del terzo capitolo si svolgono ancora ad Auschwitz il titolo non sarebbe dovuto essere la tregua ma vento alto e il riferimento è una scena descritta nel primo capitolo della tregua che si intitola per l'appunto Il Disgelo e come è costruito? Il romanzo è costruito su una sequenza di brevi racconti anche in questo caso ogni capitolo ogni racconto ha un titolo Il Disgelo Il Campo Grande Il Greco Catovice Cesare Vittoridei eccetera eccetera e sono messi in relazione in continuità da un elemento che è l'elemento unificante cioè quello del viaggio per l'appunto non solo l'esperienza di questo viaggio Levi ce la vuole presentare anche con un'immagine precisamente con una cartina geografica che è una cartina geografica che ci mostra qual è stato il percorso di Levi dal campo di sterminio fino a Torino ed è questa riuscire a vederla? Sì 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 ecco come vedete c'è la cartina c'è una linea in grassetto una linea nera che esattamente coincide con il percorso fatto da da Primo Levi e la cartina geografica che chiude il romanzo come ha scritto qualcuno è una sorta di odissea moderna in un'Europa che attende ancora di rinascere e di essere ricostruita ecco Franco Antonicelli che abbiamo nominato prima anche la tregua è articolata in 17 capitoli ed è Franco Antonicelli che era un letterato un poeta un critico letterario che è uno dei primi a credere nelle qualità letterarie di Levi della scrittura di Levi è uno dei primi a cogliere nella scrittura di Levi qualcosa appunto di importante di rilevante di personale di specifico e in un articolo uscito sulla stampa scrive questo se questo uomo erano pagine che emanavano una luce triste di purgatorio in effetti l'avrete sicuramente colta nei passi che abbiamo letto quello scrive Antonicelli presentando la tregua questo è un articolo che esce qualche giorno prima del lancio della tregua se questo uomo scrive Antonicelli sembrava il libro di una penitenza accusava senza chiedere vendetta senza chiedere nemmeno giustizia la tregua è la continuazione di quel racconto di una penitenza e scrive Antonicelli dopo una piccola iliade che sarebbe esso questo un uomo una piccola odissea dopo la guerra il nostos il ritorno si poteva continuare un libro come quel primo non doveva in quel senso restare il levi l'autore di un solo libro ma egli non ha scritto una semplice appendicio anche se qua e là la stanchezza si sente si sente verso la fine forse troppo minuta grovigliata di particolari come capita a chi arriva a casa con la memoria troppo eccitata e perciò senza capacità di selezione ma il levi ha saputo dare nel complesso a questo secondo libro cioè alla tregua non soltanto una continuità cronologica e un certo disegno dei fatti ma quel senso interno e unitario che lo pervade tutto e di cui si è già detto il senso di un'incredibile tregua nella storia del mondo tra l'altro il libro parteciperà al premio strega arriverà terzo nel 63 quell'anno abbiamo detto che inizia a scriverlo nel 62 ma esce nel 63 in quell'edizione lì il premio strega verrà vinto da Natalia Ginzburg con il famosissimo libro Lessico Familiare e al secondo posto invece si piazzerà un romanzo di Tommaso Landolti ecco con la tregua Levi viene in qualche modo riconosciuto come scrittore e il libro che consacrerà Levi come scrittore se questo uomo non verrà considerato il primo libro al quale poi ne è seguito un secondo un po' come diceva Antonicelli la tregua verrà considerato un altro libro anche se in qualche modo è collegato al primo perché abbiamo detto che è una sorta di prosecuzione perché racconta i fatti accaduti dopo la liberazione del campo però viene comunque considerato un altro libro frutto delle capacità narrative di uno scrittore che veniva considerato comunque uno scrittore non professionale o non professionista ma dotato di una scrittura asciutta tanto essenziale quanto penetrante e allora vediamo da questa scrittura penetrante leggendo qualche passo dalla tregua giusto qualcosa e poi ci ci fermiamo e chiudiamo poi martedì non posso di ricordare esattamente come e quando il mio greco scaturì dal nulla in quei giorni e in quei luoghi poco dopo il passaggio delle fronte un vento alto ecco l'espressione vento alto che sarebbe dovuto essere il titolo del libro un vento alto spirava sulla faccia della terra il mondo intorno a noi sembrava ritornato al caos primigenio e brulicava di esemplari umani scaleni difettivi abnormi e ciascuno di essi si agitava in moti ciechi o deliberati in ricerca affannosa della propria sede della propria sfera come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi travolto anch'io dal turbine in una gelida notte dopo una copiosa nevicata molte ore prima dell'alba mi trovai dunque caricato su di una carretta militare a cavalli insieme con una decina di compagni che non conoscevo il freddo era intenso il cielo fittamente stellato si andava schiarendo a Levante a promessa di una di quelle meravigliose aurore di pianura a cui al tempo della nostra schiavitù assistevamo interminabilmente dalla piazza dell'appello del Lager perché il Lager aveva una piazza appunto dove veniva fatto l'appello il nostro guida scorta era un soldato russo sedeva a cassetta cantando alle stelle con voce spiegata e rivolgendosi ogni tanto ai cavalli in quel loro modo stranamente affettuoso con inflessioni gentili e lunghe frasi modulate lo avevamo interrogato sulla nostra destinazione naturalmente ma senza cavarne nulla di comprensibile salvo che a quanto pareva da certi suoi sbuffi ritmici e dal movimento dei gomiti piegati a stantuffo il suo compito doveva limitarsi a condursi fino a una ferrovia così infatti avvenne al sorgere del sole la carretta si arrestò al piede di una scarpata sopra correvano i binari interrotti e sconvolti per una cinquantina di metri da un recente bombardamento il soldato ci indicò uno dei due tronconi ci aiutò a scendere dal carro ed era necessario il viaggio era durato quasi due ore il carro era piccolo e in molti di noi per la posizione incomoda e credo penetrante erano talmente intorpiditi da non potersi muovere ci salutò con gioviali parole incomprensibili voltò i cavalli e se ne andò cantando dolcemente il sole appena sorto era scomparso dietro un velo di caligine dall'alto della scarpata ferroviaria non si vedeva che una sterminata campagna piatta e deserta sepolta nella neve senza un tetto senza un albero passarono altre ore nessuno di noi aveva un orologio e poi andiamo verso sud avevo camminato per ore nell'aria meravigliosa del mattino aspirandola come una medicina fino in fondo ai miei polmoni malconci non ero molto solido sulle gambe ma sentivo un bisogno imperioso di riprendere possesso del mio corpo di ristabilire il contatto rotto da ormai quasi due anni con gli alberi e con l'erba con la terra pesante e bruna in cui si sentivano fremmere i semi con l'oceano d'aria che convogliava il polline degli abeti onda su onda dai cartazzi fino alle vie nere della città mineraria da una settimana esplorando i distorni di Katowice mi correva nelle vene la dolce debolezza della convalescenza mi correvano nelle vene in quei giorni anche energiche dosi di insulina che mi era stata prescritta trovata comperata e iniettata per le cure concordi di Leonardo e di Gottlieb mentre camminavo l'insulina compiva in silenzio il suo ufficio vedete torna la parola ufficio cioè il suo compito il suo ufficio prodigioso girava col sangue in caccia di zucchero e ne curava la diligente combustione e conversione in energia qua c'è molto il levi levi chimico ne curava diligente combustione e conversione in energia distogliendolo da altri meno propri destini ma lo zucchero che trovava non era molto a un tratto drammaticamente presso a poco sempre alla stessa ora le scorte si esaurivano allora le gambe mi si piegavano sotto vedevo tutto farsi nero ed ero costretto a sedermi a terra dove mi trovavo gelato e sopraffatto da un attacco di fame furiosa e vi leggo l'ultimo passo ne salto uno di quelli che avevo selezionato il momento in cui alla fine racconta il sole arrivo a Torino giunsi a Torino il 19 ottobre dopo 35 giorni di viaggio la casa era in piedi tutti i familiari vivi nessuno mi aspettava ero gonfio barbuto e lacero e stentai a farmi riconoscere ritrovai gli amici pieni di vita il calore della mente sicura la concretetta del lavoro quotidiano la gioia liberatrice del raccontare anche qui direte il carattere liberatorio della testimonianza ritrovai un letto largo e pulito che a sera attimo di terrore sera uguale attimo di terrore cedette morbido sotto il mio peso ma solo dopo molti mesi svanì in me l'abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo come per cercarvi qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per pane e non ha cessato di visitarmi a intervalli ora fitti ora radi un sogno pieno di spavento stiamo parlando di un libro scritto nel 62 quindi sono passati molti anni eppure continuano a intervalli ora fitti ora radi continuano i sogni certi sogni a fargli visita è un sogno entro un altro sogno vario nei particolari unico nella sostanza sono a tavola con la famiglia o con amici o al lavoro o in una campagna verde in un ambiente insomma placido e disteso apparentemente privo di tensione e di pena eppure provo un'angoscia sottile e profonda la sensazione definita di una minaccia che incombra e infatti al procedere del sogno a poco a poco o brutalmente ogni volta è molto diverso tutto cade e si disfa intorno a me lo scenario le pareti le persone e l'angoscia si fa più intensa e più precisa tutto è ora volto in caos sono solo al centro di un nulla grigio e torbido ed ecco io so ed è scritto in corsivo io so che cosa questo significa e anche so di averlo sempre saputo sono di nuovo in lager e nulla era vero all'infuori del lager il resto è una breve vacanza o inganno dei sensi sogno la famiglia la natura in fiore la casa c'è che ne so magari un rappresentante d'istituto tra voi che magari vediamo Ludovica forse volevi dire qualche cosa Ludovica no professore semplicemente interessante come incontro però cioè forse è un po' complicato dato che siamo in tanti non ci conosciamo magari siamo un po' timidi l'importante è che la cosa vi stia interessando io credo che io credo che per la vostra formazione per il vostro percorso di studi l'idea che ha avuto la dirigente della scuola sia stata un'idea al di là dei contenuti che sto cercando di rafferirvi io insomma io ovviamente so farmi il possibile per farvi per darvi un quadro ampio in cui possano coesistere coabitare storia letteratura teologia insomma arte come vedremo anche la prossima volta per darvi un quadro ampio non solo di Levi ma anche di tutto il contesto dello sfondo diciamo così su cui si muove si è mosso Levi e dicevo credo che sia stata un'idea un'intuizione importante da parte della vostra dirigente della vostra scuola di aver pensato a un ciclo di incontri dedicati a Levi Giacomo io vorrei Giacomo vorrei mettere in evidenza la preziosità di quella ripresa che hai fatto all'inizio del tema della volta scorsa soffermandoti in modo particolare sullo sviluppo delle riflessioni su Dio dopo Auschwitz e in modo particolare su questo aspetto in modo particolare del pensiero di Jonas perché noi a scuola un po' tutti i docenti inseriamo Jonas all'interno del nostro percorso però ci soffermiamo soprattutto sull'altro aspetto quello del principio invece avere questa apertura anche su quest'altra tematica è stato a integrazione anche di quello che facciamo ordinariamente come anche mi sembra particolarmente preziosa l'insistenza che tu hai fatto a un certo punto del tuo discorso sull'attenzione che Levi aveva per la natura come mondo che aspetta di essere studiato parlando da scienziato e di essere descritto parlando da scrittore facendo vedere come queste due cose dialogavano in Levi e mi sembra che questo è importante che i ragazzi lo colgono perché questa è un'attitudine che fa parte anche del profilo in uscita dei ragazzi dello scientifico certo infatti infatti era un'altra cosa che volevo rilevare questa cosa tocca proprio loro in prima persona questa doppia presenza della dimensione scientifica e di quella umanistica certo come anche è chiaro che sono preziosi i contenuti che tu ci stai facendo conoscere però io voglio sollecitare i ragazzi a prendere in considerazione anche quell'ordine del discorso che come tu hai detto apparteneva a Levi anche tu hai un po' adottato nella tua presentazione per cui ragazzi non so se avete colto questa presentazione dell'ambiente del biografico di Levi e poi anche l'attenzione anche a qualche autore che ha commentato i testi e poi anche la struttura del testo nel suo insieme e poi lasciare la parola ai testi che al di là dei commenti di introduzione poi parlano da soli avete visto quanto sono toccanti ti trovi Giacomo ma infatti quando appunto dovevamo discutere ne abbiamo discusso anche insieme Giuseppe oltre che con la dirigente quando abbiamo dovuto ideare e dovuto un po' pensare a come strutturare questo percorso la prima domanda che mi sono posto è che cosa quali argomenti toccare e in che modo metterli in ordine e non è un caso quindi che del primo Levi scrittore che secondo me rappresenta la tematica principale del primo Levi scrittore ne stiamo parlando soltanto verso la fine perché una volta inquadrata la figura secondo me bisognava mettere in campo tutta una serie di altri elementi che poi avrebbero contribuito ad illuminare il testo al quale uno ci arriva avendo gli strumenti per poterne cogliere lo spessore il contenuto il profilo il messaggio la funzione certo quel testo di cui tu in un passaggio hai anche fatto vedere dando una sorta di anche di saggio di analisi del testo l'importanza del linguaggio l'importanza dello stile l'importanza della finalità lo scritto come servizio insomma questa introduzione che hai fatto e poi sei andato ai testi allora io direi che forse Giacomo ci possiamo fermare qui non so se siete d'accordo ragazzi voglio soltanto ricordarvi allora voglio ancora ringraziarti naturalmente Giacomo per questo tuo servizio che ci stai grazie ai ragazzi che ci seguono e voglio dire ai ragazzi che la volta prossima ci vediamo allora martedì 26 maggio non come oggi ma regolarmente alle 16 scusa mi interrompo un attimo perché non ho avuto ancora modo di dirlo alla preside perché non lo so ancora ma forse potrei avere un consiglio di classe delle quinte quindi una classe di cui sono coordinatore martedì pomeriggio intorno a quest'ora quindi non escluderei la possibilità di nuovo di farlo alle 3 però questo purtroppo non lo so ancora con certezza per questo non l'ho ancora detto alla preside perché prima di modificare l'orario volevo avere certezza del calendario dei consigli magari diremo ai ragazzi o alle 3 o alle 4 insomma allora ragazzi rimaniamo che avrete la comunicazione ufficiale e poi come insomma è capitato questo richiamo lo avrete per mail e quindi saprete quando vi dovete collegare intanto colgo l'occasione anche per ricordare che in coda ai 5 appuntamenti con il professore Fronzi che appunto si concluderanno martedì 26 in coda poi noi avremo un altro appuntamento che fa parte del nostro progetto e che vedrà come nostro ospite il professore Daniele De Luca questo incontro è dell'università del Salento e su ebrei fascismo e shoah quindi si colloca proprio in continuità anche con quello che il professore Fronzi ci ha presentato e questo incontro sarà venerdì 29 maggio alle 16 e con questo incontro poi noi concluderemo i nostri appuntamenti allora a questo punto ricordatevi di mettere la presenza se ancora non l'avete messa e grazie a Giacomo grazie al professore Lezzi grazie a tutti voi ragazzi per la partecipazione che state dimostrando e buon pomeriggio a tutti grazie a voi ragazzi e grazie ai colleghi Donato e Lezzi ci vediamo martedì a martedì ciao 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 ciao